si è conclusa ieri a bra in provincia di cuneo la tredicesima edizione di cheese il più grande evento dedicato al mondo del formaggio iniziato venerdì 17 settembre organizzato da slow food cuore dell'evento il grande mercato dei formaggi dove 250 espositori tra cui 23 affinatori da tutta europa e 43 pressi di slow food hanno occupato i 10.000 metri quadri messi a disposizione nel centro cittadino con spazi quasi raddoppiati rispetto alle precedenti edizioni per garantire la piena sicurezza senza rinunciare alla ricchezza e varietà che caratterizzano la manifestazione tema di questa edizione è stato considera gli animali un invito a riflettere sul rapporto tra uomo e natura anche in conseguenza al periodo storico che stiamo vivendo oltre al mercato dove scoprire e comprare i formaggi 28 laboratori del gusto 4 appuntamenti a tavola 4 proiezioni cinematografiche a tema e 25 appuntamenti organizzati dall'università di scienze gastronomiche di pollenzo e poi il piacere di scoprire le storie fatte di passione e talvolta di sofferenza che stanno dietro un gustoso pezzo di formaggio